Una notte di capodanno diversa dal solito, quella che si appresta a vivere la città bianca fra qualche giorno. Il 31 Notte, insieme a Lili Service, insieme a Francesco Faggiano, amico e collega di radio per tanti anni, la notte di capodanno che sicuramente farà divertire tutti coloro i quali sceglieranno di fare un capodanno low cost. Ecco Ciccio, intanto ben ritrovato. Ben ritrovato a te Flavio. Che cosa accadrà in questa notte di capodanno qui in Piazza della Libertà? Allora, innanzitutto credo che ci sarà un po' di freddo, ma quello non c'è problema, scalderemo gli animi in parecchi modi, soprattutto con il divertimento. Abbiamo costruito uno spettacolo basandolo sugli anni 70-80, sul divertentismo in genere, un po' per far divertire sia grandi che piccini, perché si sa, in una notte di capodanno il pubblico è variegato. Si parte dai più piccolini per poi passare anche ai diversamente grandi, come li dico io, perché comunque c'è anche gente più grande, quindi anche lei si deve divertire. E noi abbiamo pensato proprio a questi anni, gli anni 70-80, incentrando tutto su un grande concerto. Ci sarà una nostra cantante, Giorgia Cardone, una cantante ostunese, con tanti anni adesso di esperienza fuori dalla nostra regione. e lei ritornerà a fare questo concerto con una grande band, quindi sarà accompagnata da grandi musicisti. E ho letto già alcuni brani della scaletta, sono brani 70-80 stranieri e anche italiani, quindi ci sarà proprio a divertirsi. Prima di Giorgia, ovviamente aspetteremo la mezzanotte qui in piazza, con i suoni del DJ Dado, con me che presenterò e allieterò chi si troverà qui in questa piazza. Naturalmente divertentismo, perché ci dobbiamo divertire tutti quanti, dobbiamo ballare tutti quanti insieme, aspettare questo 2015, che sia un anno ricco di gioia, speriamo, che usciamo fuori da questa crisi che ormai ci attanaglia. E poi ovviamente ci saranno offerti anche con la collaborazione di tutta festa, avremo dei fuochi papirotecnici, quindi corriandoli in tutta la piazza. Se non nevicherà, naturalmente avremo anche forse un po' di neve artificiale, quindi magari noi speriamo di mettere quella artificiale, così la temperatura è un pochettino più caldina, almeno speriamo, speriamo questo. Poi dopo il concerto di Giorgia Cardone con la sua band, loro si chiamano i Groove Soul, mi ricordavo, mi dimenticavo il nome, ci sarà un rapper, un giovane di Oria, quindi sempre delle nostre parti, noi abbiamo basato questo spettacolo soprattutto con artisti della nostra terra, soprattutto con artisti costonesi e anche dei nostri paesi linitrofi, ci sarà questo rapper che presenterà il suo nuovo album, quindi anche un genere diverso poi per concludere questa nottata di Capodanno che poi ci appresta verso le prime luci dell'alba. Quindi appuntamento il 31 dalle ore 23? Appuntamento il 31, noi saremo già qui ovviamente dalle ore 23, ufficialmente poi il concerto partirà dalla mezzanotte in poi, quindi aspetteremo insieme ai presenti, ai tanti turisti che sono presenti nella nostra bella città bianca, qui la mezzanotte insieme per festeggiare questo Capodanno. Ovviamente il ringraziamento va a tutta l'amministrazione comunale, all'assessore Trifan, a tutto il Consiglio, a tutta la Giunta che ci sono stati anche vicino anche nell'organizzazione, e l'Ili Service che organizza questo, poi YDJ City che siamo noi, io e il DJ Dado, e tutta festa che insieme abbiamo così collaborato per speriamo dare alla gente che è qui presente ad Ostuni un grande spettacolo.